bentornati ragazzi al vostro canale di pittura preferito oggi inizieremo una parte finale dei nostri modelli dei nostri goblin e vedremo come realizzare i carboni ardenti uno di questi comuni ha dietro le spalle una sorta di bracere una sorta di bracere dove un piccolo funghetto è lì a arrostire e vedremo come realizzare questa tipologia qui di effetto con semplici passaggi ovviamente questa tecnica la potrete può riportare su tutta la parte di fuoco di carboni ardenti legno tutto quello che potrebbe essere eventualmente qualcosa di effetto bruciato prima di iniziare vi voglio ricordare nuovamente i miei link i miei contatti mi potrete trovare su instagram all'account k trattino basso painting trattino basso studio e mi potete scrivere nei mail a kpainting studio chiocciolaggmail.com capelli un po particolari stasera come la maglietta che ho qui presto realizzeremo la maglietta con il logo che già sto studiando ma siamo praticamente addirittura d'arrivo per quanto riguarda il canale e per i prossimi video volevo anche un attimino recensire quello che ormai tantissime persone stanno già facendo che sono esattamente quelli che vedete dietro sono praticamente la gamma contrast di citadel mi hanno invitato a un piccolo contest a firenze dove faremo appunto un test su questi nuovi modelli di colori per chi magari deve dipingere grandi armate in poco tempo ma probabilmente riusciremo anche a tirar fuori qualche bell'effetto anche da una tipologia di colori che in realtà viene utilizzata esclusivamente per le grandi armate e quindi per chi ha bisogno di velocità sulla vettura non perdiamo più tempo a proposito di velocità e partiamo subito con la nuova tecnica per quanto riguarda i carbone attenti bene partiamo allora ragazzi per realizzare i carboni avremo bisogno di tonalità ovviamente sull'arancione e sul rosso piccolissimi colpi di luce sul colore giallo ma davvero pochi quindi cosa andremo a utilizzare andremo a utilizzare per prima cosa come colore di base per così dire un orange red gamma valleco model color per quanto riguarda i punti più chiari andiamo a utilizzare questo light orange sempre gamma model color valleco e per quanto riguarda invece le zone leggermente più scure andremo a realizzare i miei tonalità di ombra con un flat red normalissimo ma trucco di trucchi un pochino di flat brown poi vedremo come fare la tecnica da utilizzare è più o meno la stessa che abbiamo visto nello scorso video per quanto riguardava la arma di lava del mio lord del caos lord del caos che verrà ultimato a breve perché siamo addirittura d'arrivo finalmente quindi partiamo subito e vediamo come stendere il colore di base arancione come fare e dove poi ritoccare con il marrone bene partiamo con questo caldo i colori sono davvero un pochino liquidi quindi ingrandiamo facciamo ingrandimento della nostra nostro modello e con l'arancione di base andremo a dipingere i miei carboni cercate di dipingere in maniera come se fosse alla fine una sorta di velatura cioè dovete ripingere all'interno dei carboni perché poi carboni dovranno essere dipinti di nero quindi tra le fessure sì il carbone tutto no vediamo vediamo vedete con il mio orange claro quindi il mio light orange mischiandolo un pochino andrò a smorzare in alcune zone un capellino di piuma davvero poco una tecnica abbastanza veloce perché poi quando poi andrete a ritoccare con il nero lì è la differenza adesso utilizzando il rosso e il mio arancione di base vado in alcune zone che reputo leggermente più scure a dare un pochino di colore posso con il colore ancora più scuro iniziare a colorare il carbone la parte diciamo interna per così dire il vero passaggio arriverà dopo con il nero quindi Lì dove vi rendete conto come è qua, che ho esagerato un pochino con quella tonalità di rosso, potrete andare leggermente a rischiadire. All'è, ci fermiamo, facciamo asciugare e partiamo con poi il nero. Ok, il modello si è asciutto, io ho steso il mio nero e con il colore con la tipologia di durezza pari alla base, quindi abbastanza duro, andrò a riempire le mie zone, diciamo, più alte, più lontane dalla parte di calore. Grazie. 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 Ecco qua. assicurare che ne ho comprate a decine di questi prodotti ma nessuno mi ha mai rigenerato i pennelli, quindi dopo tre o quattro modelli che fate, purtroppo, questi pennelli vanno presi e buttati via. Ok, il contrasto così netto fa effettivamente venire fuori la luce, adesso se vogliamo fare le cose ancora un capellino rubelline con il colore che abbiamo creato prima, la mescolanza di marrone e di rosso, con durezza velatura, possiamo andare a addolcire le parti dove il nostro carbone tocca la fiamma, o meglio tocca la parte di calore, no? e smorzerà un pochino di più il nostro effetto finale. Ma eccolo qui, diciamo, molto semplice, è venuto anche molto carino, eventualmente con un pochino più di arancione chiaro, due o tre colpettine, la luce è un po' più leggera, per aumentare la luce qui, ma senza esagerare perché altrimenti l'effetto finale è diverso. Bene, ragazzi, questa tecnica è molto veloce, molto carina e molto bella alla fine perché con pochi semplici passaggi riusciamo a creare un bell'effetto finale, ovviamente lo potete ricreare anche lì dove ci sono fuochi, dove c'è eventualmente bruciature, comunque questo è l'effetto lava, chiamiamolo così. Bene, ragazzi, io concludo qui questo video velocissimo, strano ma vero. Vi ringrazio per aver visto il video e vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, un commento se avete consigli o domande e iscrivervi al canale per vedere anche poi tutti gli altri video che ci sono e ricordate ovviamente di fleggare la campanellina, almeno tutte le volte che metterò un nuovo video vi arriverà la notifica. Grazie ancora per aver visto il video e ci vediamo prestissimo con nuovi tutorial. A presto, ciao! E buona pittura a tutti!